Leggere Dante in piazza è un'esperienza unica, perché la piazza, anche quando non troppo piena, ascolta. Ed è stato divertente riempirla con l'immaginazione e i suoni delle parole di Dante, riempirla di figure demoniache, terribili, ma anche irresistibilmente divertenti, e vederle svolazzare sopra queste pietre antiche e così spesso colorate e vivaci. Arezzo Cantadante è sicuramente un'esperienza che non dimenticherò e non vedo l'ora di tornare a leggere e ad ascoltare altre voci. Grazie.